Mi metto in avanti, mi metto in avanti per non far ralzare, che vedi? Come vedi c'è già l'angolo? Non c'è la fine? No, davo gas, ma non tutto. Poi cambiamo subito. Prima facevo solo questa però, perché anche le altre le facevo in seconda. Questa è la seconda? Questa qui. L'ho comprato anche prima. Prima facevo un po' di venti, poi mettevo. Se comprato prima, poi la regasta non ci vuole. No, dai mezzo io le faccio scorrere. Sì, le scorrere meglio in uscita. Le faccio scorrere senza volere, no? Per routine. Cioè io la terra, io le so tutte. È la pratica. Le faccio non si fuori spittare. Lo faccio non volere, però è vero. E se pare un po' di venti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.